Contro l'Atalanta è sempre difficile giocare là perché loro adesso stanno bene, non prendono tanti goli e quando tu prendi in primi dieci minuti il gol un po' infortunato è difficile tornare ma adesso è un'altra partita, bisogna giocare, continuare a vincere a casa e questo è il nostro primo obiettivo per continuare così e giocare bene a casa, a dopo bisogna lavorare perché fuori casa non stiamo bene, la nostra ambizione è andare alto in classifica, per quello bisogna giocare anche fuori casa, prendere tanti punti. Inter è una grande squadra con grandi giocatori che possono fare differenza, bisogna giocare adesso bene, proviamo a vincere a casa con i nostri tifosi, veramente sono tutte partite con noi e questo è importante. Io ho arrivato in Italia come centrale ma in Chievo loro mi stanno a giocare anche a sinistra, mi ho anche trovato bene ma adesso voglio solo aiutare la squadra, penso siamo miglioranti ma ho bisogno ancora di migliorare qualche fase ma penso che tutto va bene in queste partite adesso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.